Ciao a tutti, buongiorno, io sono Barbara Sgarzi e oggi vediamo un breve tutorial per le donne del vino, di cui faccio orgogliosamente parte, per dare tre miei consigli per ripartire alla grande sui social media. Io sono giornalista, sono sommelier AIS e mi occupo da tantissimo tempo di formazione e strategia sul digital e sui social media. Proprio per questo oggi vi farò vedere tre suggerimenti per ripartire alla grande, quindi per riassestare i propri social media dopo questa pausa forzata. Condividiamo lo schermo, ecco qua, perfetto, dovremmo esserci, ok. Tre step per ripartire. Chiaramente sono delle rapide informazioni, ma insomma spero che possano essere utili per tutti. Prima cosa, scegliere il canale, il canale inteso, la piattaforma social. Non possiamo essere ovunque, non possiamo essere bene ovunque, per cui sempre meglio scegliere il canale prima di partire. Meglio pochi ma buoni, anche uno solo, ma ben tenuto e ben curato. Trovare la propria voce, punto due, che ci faccia, diciamo così, emergere dalla massa di contenuti che tutti i giorni ci inseguono sui social media. E punto tre, metterci la faccia. Vedremo come. Non serve essere ovunque, assolutamente. Anziché aprire dieci piattaforme, dieci canali social su tutti i canali disponibili e gestirli poco e male, perché la giornata è sempre di 24 ore, concentratevi su uno o due. Come sceglierli? Beh, è abbastanza semplice. Prima guardiamo come sono suddivise le persone sui social media. Il blu è Facebook, è chiaramente impossibile da ignorare. Però dobbiamo anche pensare che Facebook, ad esempio, si rivolge a un target, a un pubblico abbastanza, definiamolo, anziano. Diciamo che gli unici step di crescita sono quelli sulla popolazione over 50 e over 55, il che non è affatto male. Magari è proprio quel target lì che vogliamo catturare, ma se vogliamo rivolgerci ai più giovani, dobbiamo necessariamente muoverci su un canale come Instagram, usando molto bene sia il feed che le stories. Ricordiamoci sempre che le stories su Instagram sono fondamentali per la buona riuscita di un canale. Quindi scegliamo la nostra piattaforma, in base alla gente che ci sta sopra e in base al nostro contenuto. Abbiamo foto splendide? Instagram è la via. Non abbiamo belle foto o non abbiamo budget per procurarcele, per commissionarle? Beh, forse allora dovremo rallentare, ritardare la nostra discesa in campo su Instagram, perché qui il materiale fotografico è fondamentale e deve essere eccellente, di qualità eccellente. Quindi mettiamoci a tavolino e cerchiamo di capire dove andare a distribuire i nostri contenuti. Una volta che abbiamo fatto questo, dobbiamo creare degli account, delle pagine molto ben fatte, molto curate, che ci rappresentino perfettamente. Ricordandoci dell'importanza di tre elementi fondamentali. Questa è, che vi vedete nelle slide, è un account in Twitter, ma queste cose che io vi dico valgono per tutti gli account che andrete a aprire su qualunque piattaforma. Ricordiamoci dell'importanza di un'immagine di header o copertina che è richiesta sia su Twitter che su LinkedIn che su Facebook. Non dimentichiamocela mai. Mettiamola che sia bella, che rappresenti la nostra azienda e il nostro marchio e cambiamola quando è il momento, magari con la stagionalità. Seconda cosa fondamentale, l'avatar o logo. Oppure nel caso in cui vogliamo aprire un account social personale, la nostra foto profilo, che deve essere chiara in primo piano, dove dobbiamo essere riconoscibili. Se invece si tratterà del logo aziendale, controlliamo che la risoluzione sia chiara, che non si impasti quando diventa una miniatura, quando si rimpicciolisce nel feed delle notizie. E soprattutto per quanto riguarda Facebook, ricordiamoci che hanno cambiato già da un po' la dimensione, la forma del logo, che è rotondo e non più quadrato. Per cui in giro si continuano a vedere dei logo quadrati che Facebook ritaglia forzatamente rotondi e si perdono delle scritte e delle informazioni. Andate a controllare se succede anche alla vostra pagina. Terza cosa fondamentale, la short bio, quella che su Twitter viene chiamata short bio, ma che è la bio, la biografia, che descrive in poche parole di peso, ragionate, chi siamo e cosa facciamo. Qui potete inserire sia qui che su Instagram anche hashtag e altri account. Quando siamo sicuri di avere queste tre caratteristiche, questi tre elementi ben fatti, andiamo a dare un'occhiata a cosa fanno gli altri. Marchese Antinori ha un buon logo chiaro, ha le storie in evidenza con delle belle immagini, ricordiamoci di mettere sempre le storie in evidenza, perché così possiamo salvare le nostre stories che altrimenti dopo 24 ore spariscono, e ha soprattutto nella bio, che hanno scelto di scrivere in inglese per il loro tipo di pubblico, un hashtag proprietario che è Antinori Vintage, con il quale chiedono ai loro fan, ai loro followers, ai loro clienti, di pubblicare eventuali bottiglie vintage della casa Antinori. Questo a cosa serve? Serve a duplicare, moltiplicare le possibilità di interagire col brand, col marchio e di creare un, diciamo, una squadra, un gruppo di ambassador che sono semplicemente persone che amano il marchio, che vogliono condividere quello che bevono. Fondamentale, perché non sono influencer, non sono a pagamento, sono spontanei e quindi sono ancora più importanti e più di peso. Un altro esempio, è uscito di Cam, su Facebook vedete un logo chiaro e comprensibile, tagliato bene per lo spazio rotondo, una bella immagine di header, di copertina, tutte le informazioni che servono, né più né meno, e la possibilità chiaramente di inviare un messaggio e tutte le informazioni sul sito e sull'azienda. Poche informazioni chiare, ma ci devono essere. Creare una propria voce, cosa significa? Era il punto due dei nostri tre punti. Significa che tutti noi siamo tirati per la giacca tutto il giorno, leggi questo, clicca qui, vieni da me, dammi un like, dammi un follow, segui la mia pagina. Ma affinché la gente ci dedichi del tempo, che ormai è la risorsa più preziosa, dobbiamo offrire dei contenuti belli, esteticamente ineccepibili, soprattutto su Instagram, coerenti e ben fatti. Guardate ad esempio Mirabeau. Mirabeau Wine è un produttore di rose provenzali. Cosa ha deciso di fare? Di parlare attraverso la palette colori. Questo è il suo account Instagram. Vedete come niente è lasciato al caso, tutto è molto ragionato ed è tutto in nuance rosa, rose provenza. Anche le iconcine fatte a su misura delle storie in evidenza. Quindi andate a guardare i vostri account, in particolare su Instagram e verificate se tutti questi elementi ci sono, sono ben fatti, sono il meglio che potete ottenere e soprattutto sono coerenti fra di loro. Perché molti quando vengono a vedere il vostro profilo, lo vengono a vedere in questa modalità, modalità griglia. Quindi non la foto singola, ma tutte le foto devono avere una specie di filo conduttore che aiuta, diciamo così, la comprensione del messaggio che volete veicolare. Un altro esempio, South Coast Winery, californiani. Qui cosa hanno deciso di fare? La palette è chiaramente il verde. Vedete anche qui le icone fatte a mano, fatte su misura, non sono quelle che vengono create automaticamente da Instagram. in palette verde. Hanno deciso di privilegiare colori solari, come la California, quindi giallo e verde, ok? E anche qui mantengono una coerenza e tutte le informazioni del caso. Una cosa importantissima, nell'abbio di Instagram trova spazio, trova posto l'unico link che potete usare su Instagram, questo. Non potete mettere link da nessun'altra parte, per cui usate questo spazio, mettete il link al vostro sito, a una sezione del vostro sito, alla sezione e-commerce, a un articolo che avete appena pubblicato e non vedete l'ora di fare leggere, eccetera. Ma non dimenticate di usare questo spazio. Ancora, Barefoot Wine. Barefoot è una winery australiana che produce vini allegri, pop, colorati, come potete vedere, rivolti fondamentalmente ai millennials. Anche il nome, no? Barefoot. Vini a piedi scalzi, quindi senza troppe fisime, molto leggeri, facili da capire, facili da bere. Guardate la comunicazione. Colorata, pop, colori pastello, esplosione di colori. È una comunicazione molto, molto giovane, rivolta ai giovani, ok? Quindi la vostra comunicazione deve essere sempre coerente col target al quale si riferisce. Infine, mettiamoci la faccia. Cosa vuol dire mettiamoci la faccia? Vuol dire che sui social media la gente non vuole diventare amico o follower di un marchio, ma vuole conoscere le persone che dietro questo marchio vivono e lavorano. Soprattutto per un prodotto così empatico e caldo come il vino. Le vigne, la cantina, il lavoro, il lavoro manuale, la vendemmia manuale, le potature. Ci sono tantissimi momenti del vostro lavoro che possono essere raccontati e, diciamo così, attraverso le persone. Addirittura, in questa slide che ho lasciato in inglese ma è abbastanza chiara, si fa un'equazione, no? Come se fosse proprio una formula matematica. Cosa si suggerisce? Di evitare il più possibile il cosiddetto bottle porn, porno da bottiglia, cioè non pubblicare continuamente sui social media le proprie etichette, le proprie bottiglie. Perché i canali social non sono delle vetrine o delle brochure pubblicitarie, ma sono dei luoghi dove si fa conversazione e si racconta il proprio marchio tramite altre immagini. E quindi cosa viene suggerito da degli esperti statunitensi sulla comunicazione social? Che per ogni foto porn, cioè che non è il porno ovviamente che intendiamo noi, ma di porno bottiglie, quindi per ogni foto di bottiglia o di etichetta, insomma di prodotto, ce ne devono essere quattro che evidenziano le persone, i volti di chi lavora, eccetera, e quattro che evidenziano i luoghi. Quindi un rapporto 4-4-1. Quattro foto con delle persone che lavorano in azienda, quattro foto di luoghi, la vigna, la cantina, la casa, il luogo dove fate hospitality, quello che volete, una foto di bottiglia e di prodotto, ok? E non viceversa. Quindi cerchiamo il più possibile di rispettare queste proporzioni. Non è facile metterci la faccia perché ci si espone in prima persona e ci sono tante persone che non amano farsi vedere, ma sono certa che in tutte le aziende ci siano persone che invece vogliono fare il frontman o la frontwoman e quindi non si tratta di sfruttare, diciamo così. Poi ovviamente non ci vogliono necessariamente dei primi piani. Un bellissimo campo lungo di persone che lavorano in vigna è già una foto di people, è già una foto di persone. Benissimo. E questo è un esempio della griglia di Instagram dove viene rispettato questo razio, questa proporzione fra foto di persone, foto di luoghi e una sola foto di bottiglia di prodotto. La vedete qui. Benissimo. Un esempio che conoscerete tutti decisamente eclatante di metterci la faccia è quello di Matteo Lunelli, CEO di Lunelli Group e molte altre qualifiche e cariche che ricopre. Lui ha un account personale dove c'è sempre. Cioè la sua faccia è il suo modo di essere ambasciatore del brand. L'ho intervistato per il mio libro chiedendogli se non avesse in qualche modo paura di venire criticato o insomma di ricevere dei messaggi fastidiosi perché chiaramente fa una bellissima vita e potrebbe dare adito, potrebbe scatenare gelosia e invidia e lui mi ha detto francamente no. Credevo molto peggio, invece hanno apprezzato questo modo di porsi così trasparente, di raccontare la mia vita sui social e ovviamente di promuovere il mio marchio perché è questo per cui si fa. Lo fa in autonomia, certamente ha delle persone che lo aiutano ma nel 90% dei casi pubbliche in autonomia. Questo è un ottimo caso di metterci la faccia. Come dicevo bisogna esserci portati, bisogna averne voglia, non è detto che si debba fare in questo modo, però ricordatevi l'importanza dei volti dietro il brand, dei volti dietro il marchio. Quindi questo è l'ultimo suggerimento, scusate sono stata troppo veloce, è l'ultimo suggerimento quindi ricordiamoci, ripartiamo bene sui social, magari sfruttiamo questo tempo che abbiamo avuto in più, magari lo abbiamo già sfruttato, ma facciamo un controllo, un assessment dei nostri canali social, verifichiamo che funzionino, troviamo una voce il più possibile originale e mettiamoci la faccia. Io vi ringrazio, spero che sia stato utile anche se molto rapido, molto veloce, molto sintetico. Qui avete la mia mail, se volete mandarmi delle domande o delle richieste di consulenza o di intervento, semplicemente per fare due chiacchiere sull'argomento e questo è il mio libro che trovate se volete approfondire questi argomenti. Vi saluto e ringrazio le colleghe donne del vino per l'opportunità e lo spazio. Ciao!